Si allarga l'inchiesta sugli incarichi clientelari in Calabria Etica, incarichi che avrebbero consentito di fagocitare all'interno dell'ente in house della Regione Calabria una miriade di assunzioni. Dopo gli avvisi di garanzia spediti all'ex leader Pasqualino Ruberto e Vincenzo Caserta, altre 11 persone sono finite nel mirino del sostituto procuratore della Repubblica Graziella Viscomi. Si tratta di 8 componenti, le commissioni esaminatrici e di tre membri dei revisori dei conti che a vario titolo rispondono di abuso di ufficio in concorso con Ruberto e di omissioni in atti di ufficio, invitati a comparire davanti al magistrato titolare del fascicolo la prossima settimana. Sotto la lente di ingrandimento l'assunzione di 251 collaboratori effettuati anche a fine clientelari e ridosso delle elezioni al Consiglio regionale e delle amministrative comunali del 2015 di La Mezzaterme, dove Ruberto era candidato a sindaco. Peculato e diverse ipotesi di abuso di ufficio gravano sul Ruberto, accuse che gli sono costati un sequestro di oltre 361 mila euro, mentre il dirigente Caserta, che risponde solo di abuso di ufficio, si è visto notificare una richiesta di interdizione dei pubblici uffici, bocciata poi dal GIP.